I due gestori falsificavano e vendevano biglietti dei treni regionali della tratta ferroviaria a Sarno-Salerno. Da alcuni giorni al compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania erano giunte diverse segnalazioni degli addetti al controllo dei biglietti di Trenitalia di taglianti irregolari che risultavano essere venduti in una rivendita della zona. All'apparenza i titoli di viaggio sembravano autentici, ma sottoposti a scansione mediante tablet aziendali in dotazione al personale ferroviario risultavano precedentemente validati ed utilizzati su convogli diversi. In pratica erano dei duplicati dei biglietti autentici. Ascoltati gli ignari viaggiatori, gli agenti della polizia sono risaliti alla rivendita dove erano stati acquistati. Il personale della Polfer ha quindi controllato la rivendita indicata ritrovando diversi titoli di viaggio falsi. La truffa veniva messa in atto stampando due copie autentiche di ogni biglietto, vendendole entrambe. Le indagini ora cercheranno di capire da quanto tempo andava avanti la truffa e danni di Trenitalia accertando anche quanto è stato incassato in modo fraudolento.